Guardando il roster che avete a disposizione, è chiaro che è una squadra fortissima che probabilmente ancora non sta rendendo. Ti chiedo a che percentuale siete del percorso di crescita? La percentuale in questo momento è un po' difficile da definire. Questa settimana è rientrato Simoncelli. Comunque siamo 13 persone che si allenano ad altissima intensità. Sicuramente possiamo crescere, possiamo crescere tantissimo. La voglia dei ragazzi è tanta di allenarsi, ci alleniamo tanto e in ogni allenamento, al nostro modo di vedere, comunque c'è sempre tantissima applicazione e intensità. Grazie anche a recupero di tutti gli infortunati ci stiamo allenando decisamente meglio. Abbiamo la possibilità durante la settimana di allenarci con più alta intensità e poi chiaramente la domenica i risultati per fortuna si vedono.